Non mi ricordavo il punto preciso, io ho già scaricato la canoa un po' più avanti. C'è la giacchetta che si abbina benissimo con il colore della canoa. Adesso risfoghiamola, ecco lì. La stabilità ancora non ci ho preso mano, ogni tanto mi pare di finire in acqua. Si, si è vero. E' un po' più avanti. E' un po' più avanti. No, no, è che pensavo fosse direzionale come la mia. Ho tenuto la telecamera accesa e invece non è direzionale. Questa va dritta. Speriamo che non si sia sfriggiata troppo. Incastrato dentro la canoa. Anzi che non ti fa male niente. Questa, se la rendita un'occazione con la canoa. Questa è un po' più di più di un'occazione. Questa, nella canoa parola, l'accentrata, la canvia, l'accentrata e la canvia. Questa, l'accentrata, l'accentrata, il cibo, l'accentrata, anche la canvia. Incastrata, l'accentrata. Per l'accentrata, l'accentrata... Grazie a tutti